Dobbiamo dire una piccola soddisfazione, dopo che grazie anche a Ionica TV abbiamo segnalato la vergognosa situazione dei giardini murati, sono intervenuti ed hanno ripristinato il muretto, che dire qualche volta i cosiddetti tutologi servono a farli muovere a questa amministrazione distratta e attenta invece su altre questioni, tipo le varianti. Qua è un risultato che noi possiamo sbanderare con orgoglio, perché la nostra segnalazione è servita perché si muovessero. Continuano ad insultarci tutologi, ma noi ancora una volta ci interessiamo delle questioni e denunciamo le questioni del degrado di questa città.